Il panorama del settore educativo in Italia sta vivendo un momento cruciale di trasformazione segnato dall'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto scolastico 2022-2024. In particolare, le risorse previste per il rinnovo del contratto si attestano su un aumento dello stipendio mensile del 5,78%, concretizzandosi in un incremento lordo variabile tra 150 e 160 euro. Questa cifra rappresenta l'aumento più significativo rispetto agli ultimi cicli contrattuali, delineando un quadro di maggior sostegno economico per il personale scolastico. Ci sono grandi aspettative anche in merito agli incentivi per la carriera dei docenti e al middle management scolastico. Cosa cambierà? Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'ANIEF, ha fornito un'ampia panoramica sulle premesse e le aspettative che orbitano intorno al nuovo contratto scuola. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni. Eccoci qui con Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'ANIEF. Senti Marcello, si sta iniziando a parlare di contratto scuola. Ovviamente parliamo del contratto 2022-2024. Quali sono le novità per quanto tu ne sai? C'è stato un primo incontro con il ministro in cui si è parlato di un atto di indirizzo in arrivo, dopodiché non abbiamo saputo più nulla. Quali sono le vostre informazioni? Il ministro ci ha detto, innanzitutto buongiorno a tutti, è un piacere ritrovarvi. Il ministro ci ha detto che per quanto riguarda il rinnovo del contratto le risorse ammonterebbero un aumento del 5,78% sui nostri stipendi mensili. Sarebbero un 150-160 euro lordi. Sarebbe la cifra più alta dei rinnovi contrattuali delle ultime tre tornate, quindi a partire dal 2016. E ci ha detto anche che è sua intenzione andare a riscrivere, rivisitare quella carriera degli insegnanti piuttosto verso la direzione di una formazione incentivata per tutti o incentivante, verso quelle figure di sistema del dirigente scolastico, quindi quello verso il middle management. Senti, Presidente, quindi da quello che ho capito, forse questa è la volta buona che si parlerà concretamente di middle management? È così? È una cosa che noi abbiamo portato avanti, Redinaldo, da tanto tempo. L'ANIF non è contrario al middle management. Diciamo che noi vorremmo avere due cose, ma tu vorresti avere tutto, però la prima è la più importante, cioè stipendi legati all'inflazione. La seconda cosa per noi è importante anche all'interno della scuola comunque andare a valorizzare chi svolge dei compiti diversi rispetto all'insegnamento, in questo caso del middle management, o rispetto anche a una posizione di direzione, come nel caso degli ex DSGA, che oggi si chiamano allevate qualificazioni. Vorremmo che però ci fosse una legge, però al di là della legge, certamente è un tema che abbiamo sondato attraverso anche le situazioni di settore, ci sono più di 100.000 colleghi che gravitano intorno al cosiddetto middle management, usiamo sempre queste parole inglesi, però rispetto ai collaboratori del dirigente scolastico, dai vicari, responsabili di plesso, i secondi collaboratori e ancora tutti i responsabili delle figure di sistema che ormai sono nella nostra scuola. Questo non vuol dire, e lo voglio dire veramente in maniera molto chiara, che questi meritano e tutti gli altri non meritano, però è giusto da una parte lottare affinché gli stipendi di ognuno di noi sia legata almeno al costo dell'inflazione, perché se no parlare di Europa guardate prendere in giro chiunque. Allora, dobbiamo noi innanzitutto rispettare la norma italiana, la norma italiana dice che quando non c'è il contratto noi dovremmo avere un'indenità di vacanza contrattuale pari al 50% dell'inflazione e così non è. Senti Marcello, a proposito di indennità di vacanza contrattuale, si sta verificando però un problema abbastanza importante perché già a partire da dicembre è stata erogata una quota consistente della indennità di vacanza contrattuale e il rischio però allora a questo punto è che i soldi da contrattare saranno rispetto al passato decisamente di meno o sbaglio io i calcoli? No Reginaldo, non sbagli tu, sbaglia chi fa dei comunicati sbagliati. Allora, la matematica non è un'opinione. Allora il governo per darci quegli aumenti contrattuali che era il 3,35, che se sono, possiamo dire in media 800 euro lordi che abbiamo avuto a dicembre scorso, 67 euro in media di aumento mensile spalmato per 13 mensilità per il 2024, che i precari hanno cominciato ad avere da marzo, spiegabilmente, anche se li dovevano avere da gennaio, questo aumento è il 3,35 che non è altro che la moltiplicazione, quello che dice la legge, il 6,7 per lo 0,5 che è quello che avevamo prima, fa il 3,35. Questo è stato finanziato con dei soldi messi a parte, 3 miliardi. Al di là dei 3 miliardi avremo 8 miliardi da spendere. Quindi è evidente che se abbiamo avuto su 3 miliardi 65 euro al mese, 8 miliardi sono più di 120 euro al mese, quindi 150 euro saranno veramente di aumenti in più. Il problema qual è, dal punto di vista sindacale, è che ha denunciato l'ANIEF, è il problema che l'inflazione è cresciuta di 16 punti, quindi attualmente noi abbiamo in godimento, qual 3,35 più lo 0,5, quindi abbiamo in godimento un aumento del 3,85, 3,85 più 5,78, fa 9, cioè non fa 16. Questo è il problema. Allora, l'inflazione è cresciuta di 16 punti. Allora, noi cosa diciamo al governo? Se trovate le risorse il prossimo anno, fra due, fra tre anni, bene, nel frattempo sbloccate gli 8 miliardi e ci date il 9 che è quasi la metà del 16, cioè quindi recuperate l'indennità di vacanza contrattuale, ce lo date subito negli stipendi, senza contrattare. Senti Marcello, cambiamo argomento. In questi giorni tu sei stato rieletto presidente del tuo sindacato. Il vostro è un sindacato relativamente piccolo, ma neanche tanto, perché ormai avete raggiunto anche la rappresentatività ed è che era uno degli obiettivi che voi vi ponevate, però è un sindacato molto giovane. Siete nati solamente 16 anni fa. Voi 16 anni fa siete nati e siete diventati noti come il sindacato dei ricorsi. Cosa è cambiato in questi 16 anni? Non siete più il sindacato dei ricorsi, siete anche il sindacato dei contratti, perché adesso firmate i contratti. Non credo di fare pubblicità nel dire che a gennaio abbiamo pubblicato un libro sul contratto. Nessuno l'aveva mai fatto, perché nessuno pensava che il contratto potesse avere degnità scientifica. Che cosa dimostra questo? Noi da quando siamo rappresentativi, ti dico solo nell'ultimo anno, Anief, oggi abbiamo più di 65 mila iscritti con delega. L'ultima ritorazione dell'Arama ci dava 50 mila iscritti, quindi credo che in due anni siamo cresciuti di 15 mila iscritti. Ci sono delle confederazioni che hanno fatto dei comunicati stampa dove hanno detto che a livello confederale in questi tre anni sono saliti di 20 mila iscritti. Quindi se un piccolo sindacatino nella scuola, solo nella scuola, ne cresce di 15 mila, io credo che in questo momento posso solo essere felice. L'avevamo creato in 5, oggi siamo 65 mila, abbiamo fatto un congresso con 500 delegati osservatori, ahimè mi hanno costretto per acclamazione a essere diretto, quindi io mi sento il dovere di portare avanti le batterie che continuo a fare con dedizione e studio. Ho sindacato dei ricorsi, sì, una volta Reginaldo, mi ricordo, forse il 2014, il Panorama mi aveva dedicato alla copertina, il re dei ricorsi li vince tutti. Da allora cosa è cambiato? È cambiato che la stessa dedizione, intelligenza, che noi facciamo nelle aule dei tribunali, la mettiamo nei tavoli all'Aran, la mettiamo nei tavoli dell'amministrazione, l'abbiamo sempre messa nelle aule parlamentari e quindi da quando siamo rappresentativi questa dedizione che è accompagnata allo studio ci permette di essere credibili. Il motivo per cui in passato vincevamo e continuiamo a vincere tanti ricorsi in tribunale, l'anno scorso abbiamo restituito 12 milioni di euro a più di 3500 colleghi precari, quindi perché? Questo perché? Perché il tribunale ancora purtroppo serve nel momento in cui c'è una normativa contrattuale legislativa italiana che non rispetta la norma europea, quindi devi andare da un giudice per fare disapplicare la norma contrattuale o legislativa interna e farti risarcire per il contrasto con la norma europea. Quindi questo è il motivo per cui si va da un giudice. Poi è evidente che da quando ANIEF è nata purtroppo si è acquito il contenzioso nella scuola. Tutti fanno ricorso a scuola, ormai non esiste concorso, non esiste procedure, non esiste, però non era quello il fine, uno confonde, l'ANIEF faceva ricorso perché non era ai tavoli, ora l'ANIEF continua a fare ricorso quando non ottiene, per esempio nel contratto abbiamo ottenuto tre giorni, chiudo questo, tre giorni di permesse precari, ma non abbiamo ottenuto la parità di trattamento e quindi siamo costretti sempre ad andare in tribunale per disapplicare i vecchi contratti e perché non l'abbiamo ottenuto nel contratto? perché non c'erano i soldi nell'atto di indirizzo passato. Ed è quello che abbiamo detto al Ministro, Ministro, se non mettete i soldi nell'atto di indirizzo di quest'anno noi non potremo mettere nel contratto la parità di trattamento giuridica ed economica del personale precario e di ruolo e andremo sempre nei tribunali. Ti senti in qualche modo un ricorsista pentito? No, io mi sento un ricorsista preoattivo perché purtroppo ci sono tantissimi colleghi che continuano a lavorare a scuola con lo stipendio iniziale. Io sono un ricorsista pentito nel senso che purtroppo quando potevo fare non ho potuto fare i ricorsi perché per otto anni sono stato precario e nessuno mi aveva detto che avevo dei diritti perché mi avevano detto il contratto è così, il CD è così, il sistema è così, devi fare questo e io pensavo che era tutto giusto, pensavo che era normale, pensavo che non potevo mai pensare che c'erano dei diritti, io rappresentante dello Stato, che mi venivano negati dallo Stato. Non potevo, invece poi ho scoperto che purtroppo e anche per fortuna esiste un'Unione Europea, quindi è per fortuna, che ha delle direttive che riguardano il nostro lavoro che non sono state recepite correttamente nel nostro ordinamento e quindi siccome l'Italia appartiene all'Europa, quando l'Europa ci dice che io ho diritto alle ferie retribuite, quando l'Europa mi dice che io ho diritto alla parità di trattamento, quando l'Europa mi dice che io ho diritto alla formazione retribuita, allora quando l'Europa mi dà delle regole io non le conoscevo, la colpa di chi è stata? mia che non avevo studiato e del sistema scolastico che non mi aveva insegnato che in Europa c'è un'Europa, c'è una normativa europea. Io penso a tanti di noi presidi, insegnanti che non hanno mai insegnato ai nostri ragazzi e continuano a non insegnare come nessuno l'ha insegnato a me, che esiste un'Unione Europea con delle regole, delle direttive e quindi è un paradosso. Un mese fa abbiamo votato per il Parlamento Europeo, ma noi non sappiamo che l'Europa decide delle cose che hanno influenza nella nostra vita. Senti Presidente, e con questo chiudiamo, ma è più difficile fare il ricorsista o è più difficile stare seduto ad un tavolo contrattuale? Allora, nell'organizzare i ricorsi devi avere la capacità di studio e di analisi di una normativa europea, di una normativa nazionale e non puoi lanciare dei ricorsi che poi portino alle condanne e alle spese e vanno addirittura ad aggravare la posizione delle singole persone. Quindi quando fai un contenzioso devi essere sicuro e certo che questo contenzioso poi vada a buon fine, vada a ristorare dei diritti legali. Quando sei tavoli a contrattuali non devi confondere la capacità e la intuizione di poter trattare con tutti, indipendentemente dal colore politico che hai davanti e dell'interlocutore, e trattare sempre con una bussola, che è quello dello studio. Se tu ti presenti ai tavoli con dati, analisi prima del tavolo e li discuti con chi ti parla, ormai abbiamo quasi appurato che è oggettivo che le persone, l'interlocutore ti ascolti e cominci a capire che in effetti non ha davanti qualcuno che vuole fare un accordo con te, magari per avere una gestione di un potere superiore o altro, chissà che cosa, o addirittura invece si siede al tavolo per fare propaganda poi nei social, nei comunicati stampa, per andare ad avere più consenso dal punto di vista esterno. Sanno che hanno davanti un interlocutore che ha studiato e che si confronta sui contenuti e che può magari non aver visto qualcosa e quindi scoprire che c'erano delle cose ancora da studiare, però l'onestà intellettuale del metodo di studio è quello che ci contraddistingue. Quindi se vogliamo l'ANIEF ha introdotto sia nel campo della giurisprudenza legata al contenzioso scolastico, sia nel campo dei tavoli contrattuali a livello nazionale d'istituto, un qualcosa che noi conoscevamo da tempo, che era il metodo di studio. Il metodo di studio, quello che ti ha permesso di laurearti. Quindi diciamo meno mediazione politica e più studio, è questo che vuoi dire? Lo studio accompagnato da quella capacità relazionale che ti permette anche di avere il successo formativo con i tuoi studenti. Regnardo io penso una cosa, un erudito che lo metti in una classe e non riesce a coinvolgere i propri studenti, non vuol dire che è ignorante, vuol dire che non ha avuto quella capacità, quella mediazione didattica di trasferire un contenuto e renderlo sapere, sapere per riuscire a farlo diventare apprendimento nei confronti dello studente. Quindi non vuol dire che non sapeva, non vuol dire che non aveva studiato, non vuol dire che era ignorante. Quindi diciamo il sindacalista cosa dovrebbe fare? Dovrebbe unire entrambe le cose, quindi la capacità relazionale di riuscire a mediare rispetto a dei contenuti che sono scienza. E allora rispetto ai contenuti che sono scienza e dati oggettivi, ci possono essere dati oggettivi che vanno magari in contrasto, allora il ruolo qual è? È proprio quello della mediazione, che non è concertazione. La concertazione, me lo ricordi tu quando si studiava la nostra storia moderna, diciamo pre-repubblicana, era anche un qualcosa al tempo di Giolitti che abbiamo pure condannato dal punto di vista storico. Quindi la concertare non è una concertazione, è una trattativa che si basa però sulla capacità di riconoscere dignità all'interlocutore scientifica di quello che dice e poi anche capacità di riuscire a convincere il tavolo, l'interlocutore, chi è davanti della necessità a volte di prendere certe decisioni rispetto a quelle cattiforme che porti avanti. Senti, ultimissima domanda, la faccio anche a te, l'ho fatta anche ad alcuni segretari generali di altri sindacati. Se dovesse capitare che l'Aran, per assurdo ecco, dovesse convocare i sindacati per l'apertura del tavolo a Ferragosto, tu cosa fai? Vai al tavolo il giorno di Ferragosto? Perché no? Posso anche dire di far l'imbarca, secondo me sarebbe una cosa più piacevole perché metterebbe tutti nelle condizioni di affrontare meglio la trattativa. Però sì, le ultime ipotesi ci dicono a settembre l'apertura del tavolo, anche perché questa fretta rispetto, hanno aperto altri tavoli e negli altri tavoli la maggior parte delle organizzazioni sindacali ha detto la stessa cosa, più risorse. Quindi se dovessero iniziare anche con il nostro tavolo, ovviamente il leitmotiv sarebbe quello, però non ci siamo sottratti. Io mi ricordo che il Ministro Bianchi ci convocò, ahimè, per Ferragosto sul decreto PNRR, ma non ci fornì i dati, per cui ci faceva vedere dieci slide che poi si tradussero in venticinque pagine di provvedimento normativo e che ovviamente non erano, dalle slide non si capiva niente. Magari avessimo avuto, invece delle slide, un documento concreto, oggi anche sul PNRR magari saremmo su un'altra strada. E mi ricordo pure che avevamo superato con tutti gli altri sindacati sul PNRR, era 2021-22, siamo andati in piazza insieme però sul PNRR. Quindi la cosa bella di Anief è ripeto che nell'ultimo anno abbiamo avuto 175 incontri solo al Ministero, senza tenere conto di... Ah, oh, forse il Ministero è Arana, senza tenere conto di attuizioni parlamentari, a livello nazionale. Anief c'è sempre stata, non ne ha disertato una, a volte anche con due membri in delegazione. E devo dire, qualche cosa l'abbiamo detta, quindi se ci vuole convocare il Presidente Natteo ad agosto, però so che stanno facendo un trasloco, quindi penso che ad agosto non sarà, perché l'Aran si sta trasferendo, quindi penso che ci vedremo a settembre. Quindi diciamo, battute a parte, la previsione più ragionevole è quella che la contrattazione si apra a settembre. E proprio in queste ore il Ministro ha detto, ma io conto che si possa chiudere entro il 31 di dicembre. È una previsione ragionevole? Se il Governo trova le risorse nella legge di bilancio di ottobre, per carità, siamo pronti a chiudere. Una prima volta, ripeto, non so chi ci seguiva e chi mi ha seguito, io ricordo che dissi Nara nella parola contratto ponte, poi contratto ponte, e fui presi in gira, dice Pacifico, che cosa è il contratto ponte? Io avevo detto, ragazzi, sono delle risorse da due anni bloccate, sblocchiamole, tu mi potresti rispondere. Perché non lo facciamo anche ora, ma perché all'epoca l'inflazione del 2019-21 fu complessivamente del 2,5, gli aumenti furono del 4,2. Io non potevo giocare sull'indenità di vacanza contrattuale, che è il 50% dell'inflazione, perché l'incodimento. Ora è diverso, ora abbiamo il 16% di inflazione e il 5,78 che si dovrebbe semmare al 3,85 in godimento. E quindi io là, la situazione è veramente totalmente diversa. Quindi in quel momento ho pressato con Anief e con tutti quanti, siamo stati noi i primi gli arteci, a firmare il contratto ponte, cioè a sbloccare quei soldi che comunque nel conto corrente dello Stato erano 6 miliardi da due anni. e però grazie al fatto che abbiamo aspettato abbiamo avuto mezzo miliardi in più che ci ha permesso comunque di dare qualche soldi in più al personale della scuola rispetto agli altri comparti. Questa volta la situazione, capisco che è altrettanto dura perché l'Italia deve fare una nuova legge di bilancio recuperando 10 miliardi di infrazione che già l'Europa ci ha imputato e quindi la prossima legge di bilancio c'è il problema delle pensioni, della riforma. Ci sono tante tante cose nel cantiere. Bene, allora complimenti ancora per la tua rielezione a presidente dell'ANIEF e auguri per una estate ricca di impegni anche lavorativi che consentano al tuo sindacato ma soprattutto al personale della scuola di migliorare la propria posizione economica e anche normativa. Bene, grazie a Marcello Pacifico e davvero ancora auguri.